ehi ragazzi ehi tu wow il concorso della reginetta del college io partecipo e tu è fantastico no l'unica persona che merita di essere la reginetta del college sono io come vuoi a un'altra foto peccato e un'altra cosa sta facendo sai ho un secchio d'acqua per te perché sei così arrabbiata quel secchio è mio sarò io la regina no lo sarò io dobbiamo separarle ora dovremmo vivere insieme è orribile non tu tutti tranne te il letto sopra è mio è ora di andare a letto non dormire bene non mi piace ho un'idea spero di non svegliare nessuno le crocs non sono altro che un pericolo che succede che c'è qui ho i miei occhi la luce è accecante ops crocs che storano so cosa fare con queste ops vorrei presentarvi il mio piano abito capelli trucco abbassa la voce sto dormendo qui oh sì certo e vado a letto domani sarà una giornata meravigliosa buongiorno che schifo non posso vivere così qual è il problema principessa è la prima volta che vedi dei calzini tieni i piedi per terra accidenti sto morendo di fame dov'è la mia colazione salve vorrei una pizza a domicilio una pizza di mezzanotte e una bevanda lunare grazie tieni il resto sei molto gentile ecco la mia colazione preferita uova sono e nuvole bla 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 io amo le nuvole bla e io adoro rovinare le belle giornate la mia colazione buon appetito davvero buono sono piena è disgustoso perché lo hai fatto perché mi andava cosa mi metto questo è un vestito da paura ehi bellezza forse è meglio se ti fai una doccia lo zaino della mia coinquilina solare un drink prendine uno ora devo andare al college devo cambiarmi il pigiama non va bene cosa posso mettere una felpa col cappuccio o una felpa con cappuccio o forse una felpa con cappuccio o non c'è niente che vada bene ma non ho nulla da indossare un vestito fai da te potrebbe essere la soluzione un po' di immaginazione e abilità wow wow un abito reale solare è pronto ed è favoloso ora spunto l'abito ehi ragazzi che vestito fantastico ehi notte ehi perdente tirate fuori i libri di testo oh i miei libri cosa gli è successo che schifo oh che peccato wow guarda il quaderno di notte aspetta cosa non è giusto quello è rispettoso nei confronti della scuola sicurezza fatela uscire no vi prego non fatelo lascia l'aula subito oh poverina non è il tuo giorno fortunato non è colpa mia sono stata incastrata le mie crocs cosa ah niente fuori i miei capelli sono un disastro cosa devo fare posso rimediare ho bisogno di un nuovo pettinino solare incollo del tulle dorato sul pettine e lo arricchisco con perline ambrate un pettine come questo può sconfiggere qualsiasi brutta giornata per i capelli wow i miei capelli hanno preso nuova vita ora posso acconciare i miei capelli intreccerò dei nastri gialli luminosi nelle ciocchi vicino al viso e poi ritaglierò delle nuvole come forcine sistemerò i capelli con un fiocco oh sì è un nuovo giorno di sole per i miei capelli l'acconciatura è pronta è così carina che mi viene da vomitare ho un'idea migliore il mio rituale lunare cosa sta facendo il mio trucco lunare è pronto wow è stupendo un po di lucida labbra forte wow posso averne un po per favore oh ma certo ma a te la ricetta speciale ecco a te grazie è il minimo che possa fare tu vieni alla lavagna certo brucia tantissimo ma che succede mi scusi che poteva immaginarlo fuori dall'aula subito bruciano da morire le mie labbra vanno a fuoco direi che è finita ora devo lavorare sul trucco andiamo un tocco di giallo e arancione e naturalmente oro i raggi dorati e brillanti sono proprio quello che ci vuole un po di polvere solare per il viso e sono semplicemente raggiante wow il glen è finito la tiara è la prossima cosa da fare muoviamoci dobbiamo sbrigarci ho un cerchietto e delle fascette ritaglio le fascette in modo che siano della lunghezza diversa incollale sul cerchietto stupendo però è troppo nero lo decorerò con del tulle dorato nice aggiungiamo un po di luce di più wow voilà la mia tiara solare è pronta mi sembro una vera regina grazie ragazzi il diadema è pronto oh mi servirebbero delle scarpe notte è un mucchio di rifiuti come sempre bang e le scarpe sono pronte super ecologiche wow è incantevole grazie non può fare meglio di me non può fare meglio di me il mio diadema notturno è allo stesso livello notte è stupenda inoltre le mie scarpe sono carinissime vorrei poter dire lo stesso delle tue patetiche pantofole come se non avesse scarpe o qualcosa del genere come può indossare le bottiglie sta dormendo perfetto le mie crocs sono decisamente nei guai vi salvo io povere ragazze oh che puzza devo farle subito lavare a secco provo un profumo oh non ha funzionato una doccia fredda no usiamo le maniere forti no sono rovinate per sempre non posso presentarmi al concorso senza scarpe ragazzi vi prego di premere su mi piace il prima possibile così avrò delle scarpe carine oh sì grazie ce l'abbiamo fatta vi adoro benvenuti al concorso delle reginette del college toglimi le mani di dosso toglimele tutti dosso bene 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 chi si è ammesso le mie scarpe no non sono qui il momento della verità è arrivato scopriremo la vincitrice da un momento all'altro e il titolo di reginetta del college va a nessun dubbio a me giorno oh sì sono la regina cosa congratulazioni sei la nostra reginetta posso avere il tuo autografo oh la adoro ehi ciao nancy hai avuto l'autografo della reginetta beata te ehi secchiona guarda queste stramboidi pazze di sailor moon ops abbiamo strappato i vostri poteri di cartone vergogna i mostri come voi devono stare nell'armadietto così nessuno dovrà guardarvi ma chi è? ci prenderemo cura anche di te potere del cristallo lunare trasformazione ti punirò in nome della luna scettro lunare ma che ti prende? combatti fratello ah ah sono coraggioso mi ha paura ehi ragazzi santo anime è pazzesco è sì ha l'ormone è reale il suo diadema è stupendo e il mio non lo è anch'io voglio un diadema ragazze basta lacrime ecco i vostri nuovi diademi wow grazie sailor moon non sta per voi caramella a forma di stella il lecca lecca di luna è il mio preferito devo andare? ciao no resta qui veniamo con te ma dove siamo finite? ah una ragazza te le ha date di santa ragione su mettila è arrivato il momento fratello ma che ti prende? non chiamarmi fratello come il principe diamond davvero? sei pazzo? principe diamond? sembra più il principe flop e ti sei messo un mantello sembra così elegante cosa c'è sulla tua fronte? zitto adorabile che carino cosa? ah sì il mio gattino chi è la cosa più soffice di sempre? una piccola palla di gioia? non ti conviene farlo? che male! non va d'accordo con gli estranei è stato crudele basta così ragazze dovete andarvene grazie per essere passate cosa? ancora voi? wow potere del cristallo lunare ops è stato forte sai basta! andatevene per favore sei il nostro modello aiutaci a diventare come te ti prego bene diventeremo Sailor Moon ma dov'è? potere del lavaggio del viso vieni a me la mia pelle non è mai stata così bella prima d'ora questo prodotto è un miracolo prenderò il controllo del mondo intero Sailor Moon vorrai che non ci fossimo mai incontrate sto venendo a cercarti idratazione idratati un po' Olly ma siete serie? nasi te lo sei cercata basta mi arrendo chiedi pietà ragazzi aiutatemi datemi un like così la pistola di Olly finirà l'acqua grazie ha funzionato accidenti ho finito l'acqua usate la crema per la pelle nelsy che schifo il tuo brufolo gigante è come una luna che schifo devo schiacciarlo mi sento male ci serve un tovagliolo ce ne servono parecchi porto fuori la spazzatura è così pesante facciamolo insieme ragazze ci penso io sono una professionista spostatevi che succede lì? aprite la porta al 3 1 2 3 fantastico ma cos'è? la nostra borsa dei trucchi diamoci una mossa i miei occhi ho trovato la cipria scusa vieni qui sailor moon sei la migliore il minimo che potessi fare iniziate a truccarvi holly l'eyeliner arancione sarà perfetto per te sei proprio come sailor mars per quanto riguarda nelsy avrebbe bisogno di aiuto posso averlo anch'io? per favore per favore ti prego per favore una stella? è una manna dal cielo come faccio a fissarla? wow sailor venus odio la spazzatura qualcuno mi sta chiamando giusto è un diamante nero allora hai preso sailor moon? non ancora ho avuto un piccolo problema cosa? è inaccettabile completa il tuo compito il prima possibile andiamo sono pronto spero di non farli cadere le mie unghie aspettate questi sono guanti le mie unghie sono perfette le nostre mani faranno un bagnetto bomba da bagno e ora glitter spaziali sailor moon salpiamo goditi la jacuzzi ehi basta giocattoli in fondo è una vaschetta per le mani ecco oh queste unghie sono da urlo stupende che succede lì? sembra tranquillo chi c'è? ciao a te wow che bella luna il mio piede ops via libera ehi ti serve una mano con i capelli? sono a posto grazie bene come vi sembra? che ne pensate? hai fatto qualcosa? ecco come potrebbe essere stupenda potresti fare così anche ai miei capelli? per favore ma certo wow non c'è di che la ragazza è forte un sogno di ragazza ragazzo biondo allora che succede? hai trovato la ragazza? non ancora aspettare è la cosa peggiore prendila subito capito? eh sì signore e non tornare senza di lei oh sailor moon tu? nascondi le armi sotto il mantello? attento a te questi sono fiori? oh sei così carino vuoi uscire con me? ragazze ho un appuntamento wow congratulazioni bye bye no capo non sono più un tuo dipendente sono pronta andiamo? oh cavolo oh cavolo oh cavolo dove siamo? ora ho il piano controllo subito finalmente cosa vuoi da noi? serve solo una cosa per distruggere il pianeta la tua collana non succederà non succederà non lo farà ti fermerò io no 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 non farlo oh che paura pensavi di battermi piccoletto? non c'è speranza addio diamante oh gatti nooo chi sta urlando? è Sailor Moon ha bisogno del nostro aiuto sono armata è molto pericolosa e ho un gatto cosa stai guardando? wow sì ha un aspetto fantastico lo so no spostati c'è il guardaroba di Sailor Moon oh sì cambiamoci wow lo scettro lunare è sempre stato il mio sogno ma per la miseria ops spegniti subito dobbiamo andare prima che tu te ne accorgi sarà tutto distrutto che maratona ehi tada anche voi siete guerriani? ehi ma state indossando la mia roba? sì ci sta davvero bene oh Nancy è ora di fermare il cupo rapitore caia sai ho anche una pistola che ne dici? sto tremando un gioco da ragazzi cosa? giusto ho un'idea gattino oh no ho una terribile allergia per i gatti sì avete vinto ben fatto ragazzi oh no Diamond si è sacrificato per me sveglia di tesoro perfetto è proprio quello che ci serve ehi Sailor Moon tieni riporta e invita il tuo principe Sailor Moon sei vivo sono in debito con voi amiche vi ringrazio signore ragazzi ve lo meritate di diritto d'ora in poi siete guerriere Sailor Sailor Venus e Sailor Mars ai pessimo atterraggio come sono finita qui ma c'è un errore io non porto braccialetti prenditi una pausa dietro le sbarre cattivi mercoledì Hopi la Bird Megan i buoni Vampiro e Ban Ban ehi perché sono nella lista dei cattivi non è questo il caso zitta ehi baci piano allarme nuova ragazza bene 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 vediamo è una vampira puro sangue scusa c'è stato un errore sei nella lista dei buoni posso avere un autografo a morso? è così bello assolutamente wow batti il 5 amica mia da adesso sono nella tua squadra devo cogliere l'occasione fermati mordi anche me ti prego tu sei così pallida da sembrare già anemica ok proviamo ops cos'è? è disgustoso vuoi avvelenarmi psicopatica? ma che cos'è? grande vampiro abbattuto ehi che c'è lì dentro? niente ehi vampiro come te la cavi? oh grazie come diventare un vampiro bene iniziamo con il trucco mano per il primo passo mi serve una mano da Inid cosa? ehi mano non capisco io non vado da nessuna parte ok va bene che succede? sono qui per vedere mercoledì è qui per me posso? non così in fretta prima controlliamo sei buffa entra pure che succede mercoledì? come posso aiutarti? per liberarmi devo diventare un vampiro e tu mi aiuterai a trasformarmi trasformarti in vampiro? vado a prendere i vestiti tempo scaduto arrivo ciao ciao oh mano cosa mi hai portato? i trucchi di Inid grazie diamo il via alle danze che cos'è? oh posso vaporizzare la mia pelle con questo aggiungiamo un po' d'acqua e accendiamo oh che bella sensazione mi sembra che la mia pelle pallida sia sparita ora ho una pulizia profonda del viso oh non ho un detergente però uh eccolo qui amore mio bella voce Bansheeran posso avere il tuo microfono? ok grazie ecco la schiuma rivolgo il mio microfono non riesco a finire la gamba ok salutami la tua gamba pelosa muovi le dita in questo modo e così ti trucchi tutto il viso ehi perché non funziona? ah TikTok mi ha fregata di nuovo va bene lo farò in vecchio stile se gratto un muro per un po' potrebbe uscirne qualcosa di bello e un po' di mattone oh no niente cuori show amore finto ora devo fare l'eyeliner a lato e aggiungere degli strass rossi definiamo la palpebra inferiore con il rosso wow questo sì che è un look da vampiro più ciglia il lucido labbra sembra troppo pallido era utile nella mia vita passata però un vampiro ha bisogno di labbra brillanti più glitter rosso mattone contorno con una matita nera alla fine è il mio colore preferito ora le labbra rosso vivo un vampiro in forma? vediamo una scatola di costumi di Halloween sono sicura che qui ci sia qualcosa di bello oh sì un mantello da vampiro di classe mi sembra di essere una vampira anch'io stupendo oh il collare di mercoledì non è abbastanza vampirisco posso aggiustarlo però lo decorerò con un rubino insanguinato da un tocco gotico ma il vestito blu non si addice a un vampiro attiviamo la correzione del colore ecco fantastico wow un rosso perfetto l'abito è pronto cosa ha Ellie? solo le mie cose rosa ok certo puoi andare coraggio mercoledì l'ho nascosto cosa rosa? preferisco restare in prigione per sempre scava più a fondo oh sì ben fatto Inid c'è di tutto e anche un vestito oh mio vampiro sei sparita o cosa? è sparita guarda abbiamo un nuovo vampiro andrà bene? ehi là vampiro ehi ban ban fammi uscire sono un vampiro buono posso andare ora? mi fai morire dal ridere non hai né occhi né denti da vampiro mi dispiace ma è un no rilasciami subito zetta sono stufo ora puoi darti una calmata cos'è questo? un taser e che succede mercoledì? ragazzi per favore aiutatemi premete su mi piace il più velocemente possibile in modo che il taser si spenga grazie siete fantastici sai a un certo punto era piacevole coraggio mercoledì cosa c'è dopo nella lista? niente più nulla trucco vestiti tutto qui fammi vedere wow ti sei persa la continuazione amica mia cosa? tutta quella roba denti capelli ma dove trovo tutto questo? non preoccuparti ti aiuto io respiro penseremo a qualcosa tu prendi i denti e io mi occupo dei capelli ok? sì arrivo subito denti oh ban ban stai masticando una gomma? ehi tesoro la tua bolla è piccola piccola scommetto che non riesci a fare una bolla enorme facile guardami ops non vedo niente aiuto sono cieco ora prendo le gomme ecco il materiale che mi serve per le mie zanne stupefacente mi serve una parrucca per quanto riguarda mercoledì non abbiamo molto da scegliere così non va continuerò a cercare oh diamo un'occhiata al mio materiale per capelli minni ti prendo i capelli ai ops la sostanza chimica è caduta sulla parrucca ma è venuta piuttosto bene tingerò tutti i capelli più rosso wow è una tonalità perfetta ehi mercoledì brandy wow capelli da vampiro da urlo no Grazie.